Inizia a prendere concretamente forma l'Isernia targata a Massimo Silva. La società si è assicurata le prestazioni di due difensori. Il classe 98 Raffaele De Chiara, esterno sinistro ma l'occorrenza anche centrale, ragazzo di grande fisicità che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Vastese con 30 presenze ed una rete. Con lui un altro classe 98 di nazionalità croata, Marin Kacic ex Rieka difensore centrale ma anche centrocampista incontrista. Insomma due giocatori duttili e giovani, utili sicuramente alla causa bianco-celeste. Squadra dunque quasi al completo, all'appello mancano poche pedine, come detto in questi giorni la società è al lavoro per consegnare a Silva buona parte della Rosa per lo start della stagione. Chiaramente restando vigili sul mercato per qualche colpo last minute. Lo stesso Massimo Silva sarà presentato alla piazza e alla stampa lunedì 23 luglio alle 11 presso la sala Raucci del comune di Sernia. Silva avrà come collaboratore Giovanni Piccirilli, ex trainer della Juniores del Campobasso e Filippo Argano come preparatore atletico. Mercato in fermento anche in Alto Molise. L'Olimpia agnionese ha ingaggiato l'under Mattia Bisceglia, classe 99 difensore centrale cresciuto nelle giovanelli della Juve Stabbia e l'anno scorso in forza al Campobasso. Un under di esperienza già formato nella categoria e in particolare nel girone F. Acquisto che arriva dopo quello del centrocampista Christian Laforgia, di cui si dice un gran bene. Giocatore davvero di livello e pronto ad offrire il suo contributo massimo ai colori Granata. Intanto il vice di Mr. Mecomonaco sarà Gabriele Scandurra. Dunque a pieno ritmo i Sernia e agnionese, mentre a Campobasso ancora nessuna news sulla vicenda societaria. Ricordiamo che manca una settimana al termine ultimo per perfezionare la domanda di iscrizione. Il lavoro prosegue sotto traccia, non trapelano notizie. Mancano sempre circa 60.000 euro per restare in Serie D. La situazione è complessa, ma come detto in questi giorni, nelle nostre edizioni dagli ambienti societari, trapela un certo ottimismo sull'iscrizione al prossimo campionato. Si cercherà dunque in tutti i modi di garantire la continuità della società nel prossimo campionato. Chiaramente andando incontro ad un mare di problematiche, come ormai succede da tre stagioni a questa parte. Inoltre ieri tramite la nostra intervista a Rossella Ferro è arrivata la conferma di una sponsorizzazione della Molisana al Campobasso nel momento in cui si risolverà la questione relativa all'iscrizione, ma più in generale si farà chiarezza sulla gestione del Campobasso Calcio a 360 gradi.